9 di questa mattina il post su Facebook per annunciare la pedalata di 14 chilometri. Lo hanno trovato poi riverso a terra dopo mezzogiorno accanto alla sua bici alcuni passanti e ai paramedici del SUEM non è rimasto altro da fare che confermare il decesso. Un malore forse legato al caldo ha stroncato lungo la restera Lughignano di Casale sul Sile un ciclista di 55 anni di treviso Paolo Bersan. Poco dopo le 10 di questa mattina in via San Zuane a Scandolara di Zero Branco era toccato invece a un anziano di 83 anni. Un nostro compaesano, Gino Schiavon, probabilmente è perché noi non siamo medici probabilmente ha avuto un malore, si è appoggiato qui e si è rovesciato nel fosso con la bicicletta non è annegato perché nel fosso c'è anche poca acqua e comunque aveva parte del corpo e la testa sulla sponda qui non è morto annegato e quindi si può dedurre che sia stato un malore. Come spiega il sindaco Mirko Festona a cui è spettato il riconoscimento del corpo nel fossato a bordo strada qualcuno nota il corpo di un pensionato di 83 anni del posto, Gino Schiavon rientrava in paese dove abitava dopo essere andato a far compere al mercato di Badoere un altro elemento fa pensare anche in questo caso al malore. Il particolare è che ha staccato la borsetta dal manubrio, l'ha appoggiata per terra e poi lui e Bicicletta sono andati, sono rotolati dentro insomma quindi vuol dire che voleva fermarsi ecco. Sotto accusa il caldo che già alle 10 del mattino si faceva prepotentemente sentire. Io ricordo due o tre anni fa un caldo analogo, forse un po' meno il municipio si apre sempre, c'è aria condizionata, il Villa Guidini, il centro d'anziani soprattutto è prendere consapevolezza che il caldo quando è troppo è troppo.